Lei ha conosciuto Papa Francesco. Quando è stato eletto, lei cosa ha pensato? Ho pianto. Ho avuto una reazione di pianto e ho pensato che la Chiesa si avvia verso la Santità. Perché io ho conosciuto il Cardinal Bergoglio nel 2006 nella diocesi di Buenos Aires per una missione comunitaria con la mia comunità e ho percepito immediatamente di trovarmi davanti a un santo. Carmela Venditti, insegnante di religione a Campobasso, ha conosciuto personalmente Papa Francesco e le sue parole sintetizzano un sentimento comune a molti in questi giorni. La prima volta Carmela ha incontrato Bergoglio nel 2006 a Buenos Aires, dove è stato arcivesco prima di diventare pontefice. Poi altre cinque volte negli anni successivi, insieme ai consiglieri internazionali della comunità di Gesù, di cui lei è responsabile nel capoluogo molisano, è stata in Argentina per progetti di un'altra persona di mediazione e conciliazione e di dialogo tra evangelici, cattolici, protestanti, a fare gli onori di casa proprio il futuro Papa. Una persona umilissima, schiva della pubblicità, delle macchinette fotografiche, di potere e di onore. Una persona tra di noi, umile, che ci ha ben accolti nella sua diocesi e ci ha messo subito a nostro agio. E poi ci ha regalato anche la possibilità, poiché eravamo italiani, ha capito che noi ci tenevamo a portare dietro di noi un ricordo, ci ha regalato delle foto. Papa Francesco è una persona sincera e umile, ha detto Carmela Venditti portando degli esempi. Ho partecipato a degli incontri internazionali lì a Buenos Aires, nel Luna Park, per un dialogo fraterno con Pentecostali del luogo. E lui, pur essendo la persona invitata per conferire e per aprire questa conferenza, lui ha preferito sedersi tra di noi. Una persona semplice che ci ha celebrato la messa nella sua cappella privata, preparandosi da solo l'altare, non ha bisogno di persone che gli girano intorno per onori e glorie.